Noi questa sera siamo qui, siamo stati qui dalla mezzanotte del primo giorno di questa protesta del Movimento dei Forconi come collettivo, come coordinamento di Avola e Lotta. Avola e Lotta è un hashtag, è un nome che viene utilizzato su internet per identificare la parte della protesta del Movimento dei Forconi che interessa soprattutto Avola. Siamo studenti precari e lavoratori, siamo venuti qui per portare intanto la nostra solidarietà e la nostra presenza al Movimento dei Forconi perché pensiamo che oltre ad avere, penso tutti, come cittadini avolesi ma soprattutto come studenti, lavoratori e precari una storia familiare, una storia nei quartieri, una storia nei nostri luoghi di socialità che sicuramente ha a che fare con l'agricoltura. Tra di noi vi sono braccianti, vi sono figli di contadini, vi sono figli di agricoltori che questa crisi la vivono in tutte le sue drammatiche conseguenze. Questo movimento ha dato tanto a questa terra, noi abbiamo deciso come studenti precari e lavoratori di dare noi qualcosa a questo movimento perché pensiamo che le loro rivendicazioni siano giuste e in un modo o nell'altro le loro rivendicazioni sono anche le nostre perché un giorno noi finiremo di studiare nell'università e dovremo cominciare a lavorare, qualcuno di noi lo ha già fatto. Abbiamo notato che lavorare in questo sistema globalizzato, in questo sistema neoliberista è diventata una truffa. La schiavitù esiste ancora e ha svariate forme. Il movimento dei forconi rappresenta le forme della schiavitù e del mancato modo di creare sviluppo, uno sviluppo sano in questa regione. Questa regione nella quale si producono i limoni da vendere alla grande distribuzione a 17 centesimi che poi se li va a rivendere a 1,80 euro, possibilmente ci vengono a dire che se li piglia tutti i soldi che stanno tra gli intermediari è un sistema che ha fallito. Noi vogliamo come studenti precari e lavoratori portare la solidarietà a questo movimento. Vogliamo ringraziare Mariano Ferro che in questi giorni ha fatto una scelta mantenendo la barra dritta del movimento e dando un segno chiaro rispetto alle infiltrazioni politiche che in questo movimento si erano verificate. Perché qui siamo tutti come cittadini avolesi, siamo tutti come figli, nipoti, di agricoltori, vicini di casa, di agricoltori, di operai, di pescatori e di tutte le categorie che sono in un modo o nell'altro collegate come gli artigiani anche all'agricoltura e alla produzione di derrade alimentari in questa zona dell'Italia e della Sicilia.